Signore e signori, buon pomeriggio, oggi è sabato, ci troviamo al nuovo di via Olimpia di Castelfrentano, grande soddisfazione per il comune di Castelfrentano, per la città di Castelfrentano, in quanto è stato scelto dalla federazione ad ospitare i ragazzi della categoria Pulcini, delle società abruzzesi d'élite. In contemporanea ci sono anche i ragazzi degli esordienti al memmo di Lanciano, mentre i Pulcini stanno qua a Castelfrentano e al guido biondi di Lanciano ci sono i primi calci. Grande soddisfazione sia per l'amministrazione comunale sia per la società Virtus Castelfrentano che è stata scelta come location per questo evento, oggi 26 maggio 2018, sabato. questa è la festa regionale delle scuole calcio d'élite. Le società che adesso hanno invaso il terreno di gioco del nuovo di via Olimpia sono il Gradius Pescara, il Cologna Calcio, Alcione Calcio, Fossa Cessia, la Renato Curi Pescara, il Ripa 2007, l'Olimpia Cedas, Virtus Ortona, Barberini, Verlencia, Devis Futsal, Atletico Montesilvano, la D'Annunzio Marina Pescara, il River Chieti, Protirino Pescara, la Virtus Lanciano, il Pineto Calcio, la Valtisangro, la Virtus Pratola, la Calcio Ameternina, Scoppito e Nero Stellati 1910. Per la prima volta qua ci sarà anche una nostra rappresentanza della Virtus Castelflintano, così essendo la società che sta ospitando questo raduno regionale delle scuole d'élite, ci sono i giudici federali che hanno realizzato le porzioni di campi di gioco in questo bel bosco dell'Olimpia, del nuovo di Via Olimpia, in simultanea giocheranno tutti, sono state formate le formazioni, già sono in campo i ragazzi, da quel lato vediamo la Virtus Lanciano, lo riconosciamo dalla classica maglia rosso-nera, ecco tutto il rettangolo di gioco, tutto in paso dai ragazzi. Tante persone che sono venute per la prima volta qua si sono congratulati per il nostro impianto sportivo e noi ringraziamo la Solerzia dell'amministrazione comunale di Castelflintano che ha dotato la città di Castelflintano di un impianto che è un panto. signor e signori alla prossima ripresa, dopo le gare, ripeto qua si sta giocando la categoria Pulcini, mentre al Guido Biondi di Lanciano c'è i primi calci e al Guido Memmo c'è la categoria Esordienti. Alla fine delle esibizioni qua, delle gare, c'è la cerimonia conclusiva, tutti convergeranno al Guido Biondi di Lanciano, per la cerimonia conclusiva e i saluti finali. Signore e signori alla prossima ripresa.